Debt Match a squadre, ti autorizzo a far fuoco su qualsiasi mitico nell'area. Granata! Sto ricaricando! Di comandare gli sardini! Sto ricaricando! Sto agli avvistati! Sto agli avvistati! Sto agli avvistati! UAP nemico in zona! Unchio dove sono! Attenzione! Minacce in zona! Mi hanno beccato! Sto ricaricando! Granata! Mi sparano addosso! Salta! Mi sparano addosso! Sto ricaricando! Ho quasi visto la luce! Sto ricaricando! Sto ricaricando! Mi sparano addosso! Granata lanciata! Si, abbiamo il proprio gioco! Vi avuto un po' di chi è per quattro vapen! E' un po' di chi è per quattro vapen! E' un po' di chi è per quattro vapen! Granata! Mi spazano, non ci sono un po' di chi è per quattro vapenso! Mi spazano, non ci sono un po' di chi è per quattro vapenso! Scambio ottenuto! Tu avvi nemico in zona! Resta un minuto! Ti copro le spalle! Sto ricaricando! Mi sparano addosso! Mi sparano addosso! Restano trenta secondi! Giorno! Mi spazio! Ristano dieci secondi! Concentrato! Ricarico! Missione compiuta. Ottimo lavoro. Missione compiuta. Grazie a tutti.